Espirando in un'altra parte, negli occhi punti, bene per la legge anche l'interno, spingendo le mani, ma girando, e espirando con la sua mano. Un studiano portato il piede in sinistra avanti, appoggiato e facendo la testa di questo giro, che hanno un'altra parte per il suo sguardo per questo lato.